Siracusa, controllo del territorio, denunciati due uomini per avere violato le prescrizioni di cui sono destinatari. In occasione del weekend scorso, nell'ambito di un predisposto controllo del territorio beneficiato dalla questura di Siracusa, è finalizzato alla sicura e serena fruizione dei luoghi abitualmente frequentati dai turisti e dai visitatori locali che già affollano il centro storico di Siracusa e i siti archeologici agente delle volanti diretti dalla dottoressa Guarino hanno controllato 185 persone e 350 mezzi anche con l'ausilio di apparecchiature elettroniche. I poliziotti hanno verificato l'osservanza delle prescrizioni dei soggetti che in città sono sottoposti a misure limitative della libertà personale denunciando due uomini per avere violato le prescrizioni di cui sono destinatari.